Vince, convince, entusiasma, esalta, un abbapineto a senso unico contro il temibile Belluno. Altro 3-0, netto anche nei parziali, armonia di intenti, primo posto solitario in classifica, serve altro? La squadra del pressa abbondanza, potesse, rigiocherebbe a Garlasco per riprendersi tre preziosi punti immolati sull'altare di una graduatoria che ora vede il solo Fano battuto a destinazione al primo turno a inseguire, ma un sol punto. Unico rammarico, ma va detto che quella giornataccia ha avuto anche di più degli effetti sperati e ora, toccando quel che volete, funziona tutto, muro, attacco, difesa, servizio, ma va ridotta la percentuale degli errori, in attesa di un Bologna in crescita, occhio. In felice serata invece per la cugina di Atre, un'impavida che, torturata dalla solita Iella in chiave infortuni, scivola in casa, pursi al tiebreak, dopo una bella rimonta, contro un Lecce che non c'entra niente con la mediocre classifica. Succede, nonostante un più che buon marscia al martoriato donna fastidiose, non solo fascite plantare. Di fronte uno scatenato Vaskelis, 36 punti del Lituano, un trascinatore che meriterebbe altre vetrine. E ora alla Sieco, oltre ai rinforzi, si chiede un riscatto da 6 punti, tra anticipo col Palmi, sabato alle 18, e recupero a mercoledì 30, ora 20.30 col Marcianise. In B1, exploit interno del Montorio, pur se è faticato e a rischio, nello scontro diretto col San Giovanni Marignano. 3 punti di platino. Il manico si chiama Colella ed è tutto dire. Niente da fare, come da previsione per l'altino in B1 femminile sul campo del Forte Ravenna. In B2, anche qui secondo pronostico, agevole successo interno del Teramo sull'abordabile Bari, mentre cede, lottando il Gada Pescara Project alla pallavolo Cerignola. Tutt'altro che fortunato, il sestetto del Nocciano Chieti, che ha dato l'anima, poi perdendo contro il Trani, avendo in cambio un clamoroso errore arbitrale in coda, decisivo per il pesante e immeritato 0-3 finale nelle immagini. Peccato, ma alle nero-verdi, prive di tre titolari, cioè il 50%, resta l'amaro calice di applausi senza punti.